Posso iniziare quando voglio? Puoi iniziare quando vuoi? Vai in Italia! Sono il coach del team di Fortnite. Ho iniziato a giocare a Fortnite un annetto fa. Ho iniziato con un gruppo di amici che sono conosciuti come IG1 e da lì l'avventura si è trasformata poi in quello che è adesso. La mia esperienza col gaming è iniziata qualche annetto fa giocando a Unreal Tournament 2004. Sono arrivato poi al gioco che mi ha permesso di conoscere i miei attuali compagni di avventura, ossia Dirty Bomb, un gioco che mi ha trasmesso tanto e di cui mi sono innamorato. Nella vita faccio il coach, o meglio, l'allenatore sportivo di rugby. Alleno dei ragazzi che sono in formazione. Ormai dieci anni di allenamento sportivo mi permette di avere i mezzi e i metodi per cercare di trasmettere una mentalità competitiva ai ragazzi del team di Fortnite perché ci sono molti punti in comune per quanto riguarda il discorso e-sport e sport. Il concetto di giocatore, player, competitivo rimane lo stesso in termini di impegno, in termini di passione, in termini di sacrifici. Un player per essere completo deve avere molte caratteristiche a partire dalle skill meccaniche. Per esempio, come dal punto di vista sportivo, come può essere il rugby, ma il calcio, la pallavolo, determinati tipi di gesti vanno allenati in campo con specifici allenamenti. Su Fortnite ci sono molte tipologie di allenamento dedicate proprio a questo. Un'altra forma di allenamento molto utile che si ritrova sia nello sport che nell'e-sport è il discorso delle vote review, ossia la possibilità di andare a rivedere le proprie partite in modo tale da imparare dai propri errori, ma non solo. Questi sono alcuni dei punti chiave che grazie alla mia esperienza ho cercato di portare in Exceed per permettere ai ragazzi di migliorare di giorno in giorno. Grazie.